vai dritto di lì a sinistra sempre dritto di là di là sempre dritto sulla sinistra lo vedi si dice che quali corarli non salutano cazzo ho avuto un forte eita fino a un anno fa e si potrebbe aprire un capitolo a ragazzi sul saluto dopo la curva si potrebbe aprire un capitolo sul saluto tra bikers perché ragazzi è veramente una cosa che ti fa capire che siamo tutti 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 sulla stessa marcia fa un curo a tutti quelli che stanno fusi con le scatolette di merda delle macchine vai dritto di lì a sinistra sempre dritto di là di là sempre dritto sulla sinistra lo vedi 400 l'amaranza da 1 a 10 4 stava portando la moto al guinzaggio e non vino stava portando la moto al guinzaggio e non lo vedi stava portando la moto al guinzello a prendere il buon A parte già, noi nella cunca Siamo come le mammelle, sempre tonde e sempre belle